Ciao, sono Matteo Rapparini e ti voglio presentare il corso ISO 14001-2015. Questo corso online ha lo scopo di insegnarti ad applicare e sviluppare i sistemi di gestione ambientale secondo questa norma e ad aggiornare eventualmente i sistemi di gestione ambientale basati sulla vecchia norma, quella del 2004. Questo corso si caratterizza per aspetto pratico, per gli elementi informativi e operativi e perché ti fornisce anche del materiale didattico di altissima qualità costituito da dispense in pdf che puoi scaricare e stampare. Poi dopo ti forniamo anche un manuale ISO 14001-2015 in formato Word e sempre in formato Word la checklist per fare gli audit ISO 14001-2015. Quindi come vedi dei contenuti che nessun altro corso, sia in aula che online, ti fornisce. Alla fine del corso poi potrai ricevere un attestato che certificherà le tue competenze in ambito ISO 14001-2015. Per qualsiasi informazione mi puoi contattare allo 051 35 38 38 oppure inviarmi un'email a info-certificazione.info Grazie per la tua attenzione.